Questo Natale siamo ancora più buoni! Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333 426 9756. Domenica 24 dicembre ovviamente 2017 dalle 9.30 ci sarà una corsa o camminata assolutamente non competitiva che sarà molto speciale perché sarà la corsa dei Babbo Natale. Insomma praticamente siamo in pieno clima natalizio e Voghera si prepara. Infatti siamo alla vigilia di Natale e la prorogativa di questa manifestazione è che i partecipanti devono presentarsi vestiti da Babbo Natale o perlomeno indossare qualcosa di rosso. Ma la cosa bella è che c'è una finalità benefica. Sì, questa manifestazione non competitiva ha la finalità benefica. Infatti il ricavato della manifestazione servirà a comprare dei prodotti alimentari tipo panettoni o dolci natalizi per il pranzo di Natale delle mese dei poveri della città di Voghera. Ecco, la tassa di iscrizione benefica è di 2 euro e il ritrovo alle ore 9 e si parte alle ore 9.30. Tra l'altro so che al termine della corsa avverrà anche una premiazione. Sì, è una premiazione un po' particolare. Innanzitutto volevo specificare che chi non magari porta i 2 euro di iscrizione basta che porta magari un panettone o un dolce natalizio. Al termine della manifestazione ci sarà una cosa un po' particolare perché si premieranno i concorrenti che hanno partecipato a più eventi di questo genere durante l'anno. Noi organizziamo diversi eventi durante l'anno. Gli altri in realtà sono in notturna perché noi facciamo un circuito di Moonlight Run e quindi con la luna piena ogni mese c'è una manifestazione a scopo benefico naturalmente con diverse finalità e quindi ci si ritrova più o meno una volta al mese per fare questi eventi. Chi partecipa al maggior numero di questi eventi riceverà in omaggio una maglietta personalizzata. E non solo perché a tutti i partecipanti verrà anche offerto tè caldo per riscaldarsi perché sicuramente le temperature non saranno propriamente ottimali e un rinfresco per tutti, insomma una merenda per tutti. Non solo il tè ma ci sarà il canonico panettone e quindi anche dolci natalizi. Volevo specificare che anche questa manifestazione è organizzata da Vogheraè in collaborazione con l'Atletica Pavese e indetta dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Domenica 24 dicembre 2017 alle ore 9.30 da Piazza Duomo in Voghera alle ore 9 la Corsa dei Babbo Natale. Grazie mille, tanti auguri. Prego, grazie. Grazie a tutti.